Si voterà l'11 giugno, stabilita la data per le elezioni comunali. In caso di ballottaggio a Lucca e Camaiore, gli elettori torneranno al voto il 25 giugno. Le merende in comune, emergono altri dettagli sull'inchiesta che sta scuotendo il municipio di Seravezza. Secondo l'accusa, i sette indagati si chiudevano nei locali dell'archivio comunale per chiacchierare, bere tè o caffè e mangiare pasticcini. Ladro solitario a caccia di spiccioli, la scuola media di San Concordio, nel merino di un malvivente. Rubata la statua della Madonna, Gorfigliano, sulla strada che conduce al rione Novelli. Sul fatto stanno indagando i carabinieri. Lo Sport, il Sassuolo, vince la Viareggio Cup. I neroverdi hanno battuto ai rigori l'Empoli. Lemura aspetta un Vertide o Broni. Chiusa la regular season al secondo posto, la squadra lucchese se la vedrà nei quarti di finale della Pule Scudetto con la vincente del confronto tra Umbre e Lombardi. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con il TGNO. In apertura parliamo di elezioni comunali. Finalmente è stata stabilita la data del voto. Si voterà l'11 giugno per il primo turno. Per i comuni che superano i 15 mila abitanti, l'eventuale ballottaggio è previsto per domenica 25 giugno. Il Ministero dell'Interno ha ufficializzato la data per le elezioni amministrative. Si vota domenica 11 giugno e gli eventuali ballottaggi si terranno domenica 25 giugno. Nella nostra provincia questa tornata elettorale interessa complessivamente cinque comuni. I più importanti sono quelli di Lucca e Camaiore, che avendo più di 15 mila abitanti potranno essere interessati dal ballottaggio qualora nessuno dei candidati a sindaco ottenga al primo turno la maggioranza assoluta dei voti. Gli elettori a Lucca sono oltre 77 mila, a Camaiore quasi 28 mila. Gli altri tre comuni interessati dal voto in provincia di Lucca sono Bagni di Lucca 7 mila elettori, Porcari 6 mila 800 e Forte dei Marmi 6 mila 500 elettori. In questi tre municipi il nuovo sindaco sarà il candidato che vincerà il primo turno. In Toscana andranno al voto complessivamente 33 comuni. Tra i più importanti, oltre a quelli della provincia di Lucca, quelli di Carrara, Aulla, Pistoia, Quarrata e Bientina. E adesso andiamo in Versilia per il caso delle merende in comune al comune di Seravezza. Andiamo a sentire quali sono le ultime indiscrezioni su questa inchiesta. Si chiudevano nei locali dell'archivio comunale a metà mattinata o nel primo pomeriggio per chiacchierare, bere tè o caffè e mangiare pasticcini in compagnia senza lavorare né timbrare il badge per segnare la pausa lavoro che il più delle volte sforava abbondantemente i 20 minuti concessi per legge. Sono i dettagli che emergono dalle indagini condotte dai carabinieri sul comportamento di sette dipendenti del comune di Seravezza ai quali, come è noto, la scorsa settimana è stato notificato l'avviso di conclusione indagini partite dopo una serie di esposti alla procura arrivati nei mesi scorsi da chi aveva notato presunti comportamenti illeciti. Si tratta nello specifico di cinque addetti agli uffici e di due funzionari ripresi dalle telecamere nascoste dai militari negli uffici dal 12 gennaio al 10 febbraio. In un mese hanno fatto pause senza timbrare venendo dunque regolarmente pagati in alcuni casi persino come lavoro straordinario chi per un totale di 2 ore e 14 minuti e chi addirittura per oltre 11 ore di pausa complessive. L'accusa è di truffa ai danni dello Stato e di interruzione di pubblico ufficio con la violazione del disciplinare in materia di presenza in servizio del comune. Non si tratta di assenteismo come è accaduto in altre città italiane ma il caso delle cosiddette merende in comune ha comunque scosso la comunità seravezzina. Se è una cosa veritiera è uno scandalo se è una cosa vera è uno scandalo ci sarà chi indagherà, chi accerterà questa cosa qua. Ci vuole un senso di responsabilità e soprattutto chi vigila dovrebbe non permettere di fare certe cose. L'impegato comunale si sente in diritto di fare certe piccole assenze così eccetera più o meno prolungate ma sembrerebbe che è un fatto nazionale, uno sport nazionale. Io le poche volte che sono andata in comune ho sempre trovato ognuno al suo lavoro e questa cosa mi sembra strana. Se loro non lavorano e non rendono niente dopo chi ci rimette? Il popolo, i cittadini. Se hanno sbagliato è giusto che paghi per quello che hanno fatto come chi sbaglia paga. Se qualcuno andava da un ufficio all'altro a parlare e non passavano il badge mi sembra una cosa assurda è normale in qualsiasi azienda. Apriamo la pagina dedicata al lavoro c'è stato un incontro in regione dedicato alla questione della SNAI erano presenti tra gli altri il consigliere del presidente regionale Rossi per il lavoro Gianfranco Simoncini il sindaco di Porcari Vaccini e i sindacati. Giovedì sempre in regione è in programma un altro incontro al quale parteciperà anche l'azienda SNAI e all'ordine del giorno ci saranno i chiarimenti delle motivazioni che hanno spinto l'azienda alla procedura di mobilità e la richiesta di ammortizzatori sociali per gli esuberi. Ancora il lavoro però andiamo a Fornaci di Barga sono state organizzate una serie di assemblee tra sindacati e lavoratori sulla questione della KME. Sindacati e lavoratori a confronto nelle assemblee svoltesi martedì presso lo stabilimento di Fornaci di Barga di KME. Gli incontri sono serviti a fare il punto della situazione sull'andamento dello stabilimento nei primi tre mesi del 2017 e sulla prosecuzione dell'accordo sindacato e azienda sottoscritto a giugno 2016. Abbiamo informato i lavoratori su come è lo stato dell'arte per i primi due mesi dell'anno di questa ripresa che comunque si comincia a intravedere e che dà una sorta di speranza affinché l'accordo che abbiamo fatto nel 2016 a giugno stia prendendo la forma che in realtà deve prendere cioè quella del rilancio dell'azienda. Uno dei problemi emersi oggi è quello della mancanza di materia prima? Sì, questa è sicuramente una delle cose che ci preoccupa di più perché in un mercato che comunque è in difficoltà sembrerebbe che gli ordici potessero anche essere che era poi uno degli obiettivi del nuovo amministratore delegato portare nuove ordini. Paradossale è che sembra che non ci siano le risorse per l'acquisto della materia prima. Se non si fa un passo ulteriore ci ritroveremo con dei problemi in una situazione in cui non ci saranno neanche più gli ammortizzatori sociali e noi vigileremo su questo. È chiaro che una maggior continuità dell'arrivo della materia prima potrebbe anche lavorare meglio a far sì anche di poter prendere più ordini avvantaggiare l'azienda per quanto riguarda le produzioni e dare una regolarità di lavoro ai lavoratori che è quello che magari si aspettano in questo momento. Prossimo passaggio il secondo punto della situazione tra azienda, sindacati e istituzioni. Il prossimo incontro del tavolo istituzionale è previsto a Lucca il 7 aprile. Andiamo alla cronaca a San Concordio un ladro ha fatto irruzione nella notte alla scuola media. Vediamo. Ha rubato solo i soldi contenuti nelle macchinette delle bevande senza toccare computer e tablet presenti nelle stanze. Non ha preso nemmeno gli spiccioli contenuti in una bottiglietta. È stato davvero un furto atipico quello messo a segno martedì notte ai danni della scuola media di San Concordio a Lucca. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un solo uomo che dopo aver forzato la finestra della stanza dei professori si è introdotto all'interno della scuola ed è andato dritto alle due macchinette che distribuiscono le bevande. Una l'ha forzata con facilità l'altra ha dovuto semidistruggerla per impossessarsi dei soldi contenuti all'interno. Pochi spiccioli dicono dalla scuola perché erano state svuotate da pochi giorni. La cosa strana è che il ladro non si è accorto oppure non ha voluto volontariamente impossessarsi delle altre cose di valore presenti nelle due stanze. I computer, un tablet in ricarica e anche alcune decine di euro contenute in una bottiglietta posizionata proprio sopra uno dei distributori. I rilievi di quanto accaduto e le indagini sono affidate alla polizia. L'episodio riporta alla luce i problemi di sicurezza in questa zona. Alcune settimane fa una siringa era stata rinvenuta nel giardino della scuola elementare. I genitori delle centinaia di bambini e ragazzi che frequentano i vari istituti scolastici dalla scuola dell'infanzia alle medie chiedono più controlli nelle ore serali. E adesso ci spostiamo in Alta Garfagnana per il furto di una statuetta raffigurante la Madonna. Non lo sono stata io a scoprire è stata la mia amica che mi ha chiamato che è proprio qui di fronte e siamo venuti su a vedere e piangevo piangevo perché per me la Madonna è tutto ero io che la guardavo che gli portavo il fiore con la mia nipotina ci veniva a far pregare tutti i giorni eravamo sempre qui non andiamo dalla Madonnina e per me quando l'ho vista è andato io al cuore. Un furto assurdo quasi un sacrilegio c'è sgomento nella comunità di Gorfigliano per il furto della Madonnina di Marmo che dal 1948 era esposta all'interno di questa maestaina nel rione dei novelli nessuno avrebbe pensato che potesse accadere una cosa del genere. No onestamente no anche perché ce ne sono tante in paese non ha mai toccato nulla a nessuno e purtroppo siamo arrivati anche a questo giorno ieri quando l'abbiamo saputo era in paese tutta una cosa era tutta una cronaca stamani aveva a correre tutti a comprare il giornale per tenerla anche come ricordo del fatto ma ci ha colpito ci ha colpito veramente guarda mai l'avremmo aspettato perché qui sulla strada senza lucchetti senza chiusure soltanto questo cancettino qui nessuno ha mai toccato niente eccola qua fu messa l'8 maggio del 48 dalla famiglia Valdacci che avveravano questi due fabbricati alle nostre spalle una famiglia anche benestante ecco perché a quel tempo si permise di fare anche questo lavoro sarà costato poco ma tutti non se lo potevano permettere e mise a protezione dei suoi venici aveva la bottega alimentari e tabacchi molto frequentata dal resto specialmente da questa parte del paese in questa zona ogni famiglia vuole la sua protezione per cui basta girarsi intorno che si trovano simboli religiosi ovunque e mai era accaduto un fatto di questa gravità non è certo per il valore ma è il gesto che ha colpito davvero tutti intanto la comunità si riunirà per pregare come forma di riparazione per quanto è accaduto a Monte Carlo è stato approvato nel corso dell'ultimo consiglio comunale il bilancio di previsione 2017 sono state lasciate invariate le tasse e sono state sono stati aumentati gli investimenti per le assunzioni di nuovo personale per la prima volta è stato ridotto il costo del servizio di smaltimento rifiuti via libera anche al nuovo piano strutturale strumento urbanistico ha detto il sindaco Fantozzi a tutela del territorio e dell'identità montecarlese di nuovo a Lucca per la caccia al tesoro multietnica in centro storico sabato 8 aprile torna la caccia al tesoro della città di Lucca quest'anno alla sua terza edizione organizzata dal comune e dal forum territoriale per la cooperazione internazionale la manifestazione che si svolgerà nella nuova location del loggiato di palazzo pretorio di piazza San Michele sarà l'occasione per mettersi alla prova sui temi del dialogo fra le culture della conoscenza fra popoli della cooperazione e dell'integrazione il giorno in cui si svolgerà la caccia al tesoro le associazioni presenteranno le loro iniziative e da qui si svolgerà coinvolgendo tutta la città la caccia al tesoro a colori finalizzata a far conoscere luoghi simbolo della nostra città in termini di accoglienza e di cooperazione internazionale infatti quest'anno il titolo generale della caccia al tesoro è costruiamo ponti abbattiamo muri che è già estremamente significativo per esprimere appunto il senso del messaggio che vogliamo mandare tutti potranno partecipare alla competizione che prevede un percorso adatto anche ai bambini le tre squadre composte da un minimo di 4 ad un massimo di 6 persone che otterranno i miglior punteggi complessivi vinceranno fantastici premi offerti da Conad da Alessandro e Galli Luca Comics and Game e Fonte Ilaria potete iscrivervi sul sito del comune oppure direttamente al desk il giorno della gara tutto per la prima parte della tg adesso la pubblicità è subito dopo lo sport grazie a tutti